Buonasera per la rubrica 30 e dintorni, questa volta ai microfoni di In3Minuti.it, cioè Emanuele Vita. Chi è Emanuele Vita? È un agronomo specializzato in agroingegneria, titolare dell'azienda GEVA, che è un'azienda agricola della nostra provincia, che ho voluto attenzionare per due ragioni. La prima è che è rimasta a lavorare nel territorio risaltando quelle che sono le nostre materie prime, ma soprattutto perché con il cambio generazionale che c'è stato in azienda si sono aperte delle porte particolari legate al vostro lavoro che vi hanno fatto diventare pionieri e ora lui ci spiegherà il perché. Salve, buonasera a tutti e grazie innanzitutto dell'interesse. Come diceva prima Monica, sono un agroingegnere e insieme ai miei fratelli Giuseppe ed Andrea portiamo avanti la società, un'azienda agricola si chiama GEVA, appunto dai nostri nomi Giuseppe Emanuele Andrea Vita. Abbiamo portato avanti l'azienda agricola di famiglia, siamo praticamente alla quarta generazione di produttori e commercianti ortofrutticoli e insieme ai miei fratelli abbiamo dato un'impronta molto più innovativa all'azienda quando, una volta completati gli studi, siamo tornati nella nostra terra e dovevamo capire, in un momento di particolare difficoltà per il settore agroalimentare della nostra provincia dovevamo capire se spostarci e quindi delocalizzare come hanno fatto in molti oppure restare nella nostra terra e capire come restarci. Capire come restarci, la soluzione è stata quella di innovare. Quindi dopo aver perfezionato gli studi fuori, siamo rientrati quindi con una preparazione già diversa e abbiamo dato un valore aggiunto all'azienda innovando e quindi abbiamo investito nella sperimentazione e abbiamo creato il primo campo europeo di uva da tavola in fuorisuolo. Che cos'è il fuorisuolo? Perché a noi sembra una cosa fantascientifica, queste piantine crescono dove? Sembra fantascienza ma esiste. Il fuorisuolo è una tecnica che praticamente per farla breve e non annoiarvi con vari tecnicismi praticamente è una coltivazione che si basa non più sul terreno ma su substrati inerti. Inerti significa che si può usare la fibra di cocco come la perlite o la pomice o altro. È un sistema di coltivazione che si usa nel mondo per coltivare ortaggi, per coltivare fiori. Noi siamo stati i primi appunto in Europa a coltivare in vorisuolo appunto la vite. La coltiviamo nella fibra di cocco che per fare un esempio semplice cioè la fibra che si trova all'esterno della noce di cocco classica e quindi noi la utilizziamo per coltivare uva da tavola e tramite una serra totalmente automatizzata praticamente riusciamo a gestire questa serra con i parametri pedoclimatici ideali per la pianta e quindi la pianta di vite sta in uno status di benessere totale e costante e questo ci permette praticamente di arrivare primi in Europa con l'uva. Significa che noi riusciamo a iniziare la raccolta dell'uva da tavola a fine maggio che è un periodo in cui i nostri competitors non riescono ad arrivare in quel periodo anche nei paesi più caldi quindi come la Tunisia e il Marocco che in un mercato globalizzato come quello odierno sono i nostri competitors diretti in quei paesi per il loro stadio di conoscenza e di preparazione tecnica non riescono ad oggi a competere con questo nostro stadio di sperimentazione magari ci arriveranno tra 5 anni, 10 anni e noi dobbiamo essere pronti con una nuova innovazione e una nuova preparazione a diciamo proporre sul mercato un valore aggiunto diverso la cosa che mi piace specificare è il fatto che noi riusciamo a coltivare questo tipo di uva da tavola e queste primizie nella nostra zona perché è la provincia agrigentina, la costa agrigentina noi abbiamo le tenute che si espandono tra Agrigento, Nara e Favara è una zona in cui il pedoclima permette di fare tutto ciò quindi difficilmente nella nostra zona grandina, nevica o ci sono le cosiddette gelate quindi grazie a questo noi possiamo fare tutto ciò sia per la preparazione che abbiamo avuto e per la formazione che abbiamo costruito passo passo ma anche perché la nostra zona comunque si presta tanto a questo tipo di cultura I prodotti di Agrigento, quindi del territorio agrigentino grazie a questa innovazione tecnologica che vi consente di in termini di tempo battere la concorrenza ma anche in termini di standard e di qualità perché il prodotto che arriva è un prodotto di eccellenza dove viene esportato? perché è un prodotto per lo più destinato ai mercati esteri dove hanno degli standard e delle richieste diverse rispetto a quelle del mercato italiano quindi volevo semplicemente chiederti il nome di Agrigento viene portato in quali paesi? ormai diciamo un po' in tutto il mondo nell'ultimo periodo ci siamo specializzati nei mercati arabi quindi negli Emirati Arabi, stiamo lavorando molto con l'India ma gli Emirati Arabi per esempio è un mercato che a noi piace tanto perché sono mercati in cui pretendono tanto pretendono un livello qualitativo molto elevato quindi mantenendo diciamo elevati i parametri qualitativi organolettici dell'uva riusciamo in questo modo ad arrivare davvero ormai possiamo dire in ogni parte del mondo abbiamo costruito una struttura, un'opificio agroindustriale per permettere anche di mantenere elevate queste caratteristiche qualitative e in questo modo riusciamo ormai ad arrivare in tutto il mondo ci stiamo specializzando nei mercati arabi quindi negli Emirati Arabi stiamo lavorando molto con l'India sono diciamo mercati in cui pretendono delle caratteristiche qualitative molto elevate ma a noi piace fare questo tipo di lavoro quindi stando attenti ad ogni dettaglio dal campo fino alla tavola quindi stando attenti ad ogni parte del processo e quindi ad oggi possiamo dire che l'uva che parte dalla nostra provincia arriva un po' in tutto il mondo insomma i principi arabi mangiano uva Italia della zona dell'agrigentino a questo proposito ti volevo chiedere se dovessi dare una ragione a un giovane che vuole fare lo stesso percorso di studi che hai fatto tu è un motivo per rimanere qua? Qual è? Intanto io il consiglio nel mio piccolo e con moltissima umiltà che mi sento di dare magari a molti ragazzi è quello di intanto di formarsi formarsi veramente bene, studiare studiare non significa per me solo università significa incuriosirsi di tanto quindi viaggiare, approfondire ogni tema che appassiona che ci fa scaldare dentro quindi far crescere comunque la cultura dopodiché nel nostro territorio dico terreno per deformazione professionale c'è veramente tanto da fare nel mondo agricolo, nel mio mondo per esempio nella nostra zona è un paradiso per noi agricoltori perché comunque riusciamo a coltivare davvero di tutto cioè la nostra zona è predisposta per coltivare molti tipi di prodotti e avere un valore aggiunto e quindi essere precoci rispetto ad altri competitors quindi cambiare per un attimo punto di vista non guardare più la nostra provincia con tutte le pecche che sicuramente ci sono strutturali, di servizi, tutto quello che vogliamo guardare un attimo per i valori aggiunti che ha la nostra terra e partire da lì quindi noi siamo partiti dal valore aggiunto che è la nostra zona che è quella di avere un vedo clima mirato e portato per le culture precoci e abbiamo tra virgolette utilizzato, non sfruttato questa peculiarità del nostro territorio quindi nel nostro territorio c'è veramente tanto da fare quindi sicuramente studiare, formarsi e poi appassionarsi a qualcosa che ci fa scaldare il cuore Ringraziamo Emanuele per questa piccola lezione di agroingegneria io pensavo che il cocco servisse solo per fare i cosmetici invece abbiamo scoperto anche questo suo utilizzo tra l'altro è un tipo di coltivazione, di procedimento che è attento all'ambiente perché sostanzialmente recuperate materiali di scarto difficilmente smaltibili e in più vi consente di avere anche un'uva con un minore utilizzo di fitofarmaci quindi anche un'uva più sana per certi versi e in chiusura vi volevo dire che mi è venuta in mente sentendo parlare Emanuele il poeta Franco Arminio che ci chiede di riappropriarci della nostra terra e diciamo non credo che ci possa essere il migliore esempio di questi giovani imprenditori favaresi grazie a tutti